Nell'ultima puntata dell'anno, Andrea fotografa un cinghiale ferito, il gabbà distrugge definitivamente il domi, il domi imperterrito ce l'ha fatta lo stesso, nonostante, allora nell'ordine, nonostante, allora, fianchetti, vabbè quelli li abbiamo tolti, batteria andata, zaino, riprendimi dietro come sono con lo zaino, ecco qua zaino con i vari fianchetti e quant'altro dentro, poi senza filtro dell'aria, filtro dell'aria nello zaino qua, oh scusami, interruttore, poi fascette, fascette qua per la benzina che perde sempre, fascetta per il recupero, poi abbiamo interruttore, interruttore, fai da te, fai da te e poi basta, no ah è questo importante, ah è il salbatoio che si muove e la sella che si muove, la sella che è un po' così, un po' così, va bene, c'è tutto, quindi il CRF di Andrea? Il CRF di Andrea lo può anche buttare, dipende su un dominator. il CRF di Andrea è un amico chile, che si muove il prentabile, interruttore, qui ai remaining che mi siti saldano! a salvato la armero 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti